Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo fantastico video con Vimy! Guardate un po' qui! Oggi per Genshi Impact ho deciso di affrontare l'Oceanide, ovvero il boss Hydro che devo combattere e sconfiggere se voglio che Barbara possa crescere. Troverò a scendere. C'è un materiale che solo lui può darmi. E piove. Fantastico! Guardate un po'! Vedete questo? Cuore purificatore! E l'unico che può darmelo è l'Oceanide! Perciò... Eccoci qua! Affronterò il boss Hydro! Sarà... Testardo come quello Geo? O sarà semplice... da sconfiggere? Lo vedremo! Una volta al posto di Lumino ho rimesso Lisa. E' sicuro con questa squadra dovrei farcela! Caia congela! Caia congela! Lisa elettrifica! Noel come al solito ci protegge! Barbara cura! Sì e in buona sostanza adoro i due personaggi! E' il fatto che siano molto utili! Speriamo... In bene! Eccoci qua! Sono pronta! E' affascinante! Sembra... Non so... Lo spirito di una sirena! E' affascinante! Sembra... Non so... Lo spirito di una sirena! Ok... Lisa funziona! Oh, dei cinghialotti d'acqua! Dai! Dai Lisa! Fulminali tutti! Dai Kaya! Ok... Noelle! Sono belli resistenti però eh. Va bene che sono tutti... a livello decisamente alto, però la Lisa! Uno è andato, tocca al secondo. E ora? Ha tolto il terreno... Buia! Non riesco a raggiungerlo? No. Ok, delle ocche. Vai, Noel! Dai, dai! Siamo a metà! E stiamo a metà! Branky e rano. Ok. Devo solo... No, no, no! Non devo andare in acqua! Devo congelarli! Vai, Lisa! Barbara! Noel! Caia! Normal che posso proteggermi! Corri! 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 Termina! SP! Perfetto! e a live it all to me power of water is its ability to take any shape dai 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 così no 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 lisa non morire grazie noel no 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 non ancora caricata dai no Alisa, non morire! Ok. Ok. Hmm. Dai dai, Lisa! Oh. Corfito. Eh! VITARIA! Yeeeeee! Oh. 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 Que minera. ha dati due ottimo l'origine non è stato così generoso e mi ha dato anche un po di oggettini dai facciamolo subito evviva barbara ora è più forte ovviamente dopo accrescerla ancora e ancora un po fantastico e ovviamente dovrò affrontare una seconda volta e altre volte questi boss così da poter accrescere tutti i personaggi che hanno bisogno dei suoi elementi ok il prossimo boss da trovare e sconfiggere sarà quello di fuoco ma non ho fretta dunque grazie a tutti di essere stati in mia compagnia ricordatevi di lasciare tantissimissimi mi piace iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video sempre con vimi ciao 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 ciao